I medici del Trauma Center dell'ospedale Villa Sofie di Palermo hanno decretato la morte cerebrale della piccola Greta, la bambina di 4 anni caduta domenica scorsa dal balcone della sua abitazione al secondo piano di uno stabile di via Castelvetrano a Mazzara del Vallo. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, era stata portata all'ospedale a Bataghello di Mazzara del Vallo dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione della milza. Nella caduta aveva anche riportato un trauma cranico e un serio problema polmonare. Già durante i primi soccorsi la bambina sarebbe andata in arresto cardiaco con i sanitari che erano comunque riusciti a rianimarla. Da Mazzara del Vallo era stata poi trasferita all'ospedale Villa Sofia di Palermo ma con le speranze di riuscire a salvarla che si riducevano di ora in ora. Nella tarda mattinata è stata dichiarata la morte cerebrale della piccola, una tragedia che ha sconvolto la comunità di Mazzara del Vallo che si è stretta attorno alla famiglia di Greta in un momento così drammatico. Cordoglio per la morte della bimba è stato espresso dal sindaco Salvatore Quinci.